Siamo alla vigilia della finale di Amici 23, il talent show condotto da Maria De Filippi e i pronostici sul vincitore sono già al centro dell'attenzione. In un colpo di scena inedito persino l'intelligenza artificiale è stata consultata per prevedere chi alzerà la coppa domani sera. L'impazienza dei fan è palpabile, tanto che alcuni hanno chiesto all'intelligenza artificiale di analizzare i dati sui sei finalisti Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sara. Utilizzando informazioni sulla popolarità sui social media, i numeri di streaming e le preferenze online, l'IA ha fornito un pronostico sorprendente. Secondo l'analisi il cantautore Holden è il favorito con il 35% delle preferenze, seguito da Petit al 30% e Sara al 15%. Questi risultati hanno stupito molti, soprattutto coloro che davano per certa la vittoria di Sara Toscano. Non resta che sintonizzarsi domani sera su Canale 5 per scoprire se l'intelligenza artificiale ha avuto ragione e chi sarà il vincitore di Amici 23.